Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video di nail art, ovviamente vedendo come sono vestite e tutto il resto è un nail art a tema natalizio, finalmente sono riuscita a farle per Natale, vi devo dire che mi piacciono veramente tantissimo, fatemi sapere appunto cosa ne pensate e al prossimo video, un grosso bacio, ciao! Questo è il risultato finale della mia idea, se vi fa piacere appunto seguite il tutorial che vedrete appunto dopo questo e ancora tanti auguri di buon Natale e buone feste a tutti quanti a quelli che vedranno questo video, come prima cosa io ho passato a monocolore questo prodotto che ha una base comunque cover perché io sotto il semi permanente quindi visto che avevo necessità di coprire soprattutto il medio, oltre ad averlo passato su tutte le altre unghie ho dato due passate sul medio appunto per dare più coprenza, sulle altre unghie ho utilizzato questo colore che è l'over di Passione Unghie che è un semi permanente dell'SP33, ho utilizzato anche il bianco che è il mio solito Arctic di Gelish che è il colore che amo follemente bianco in assoluto e poi questo One Step che ho S54 con bronzo glitterato, stendiamo sull'indice e il pollice a monocolore il rosso, stesure molto sottili perché tanto ne daremo due e come vedete ha un'ottima coprenza, dopodiché prendiamo il pennello, utilizzo questo di Passione Unghie a cui ho togliato un po' la punta per renderlo ancora più sottile e iniziamo a fare questa lunetta di French laterale, ovviamente la grandezza della lunetta potete scegliere voi come farla, basta che coprite bene la punta, andate bene nel laterale, nel giro cuticole e mettete in lampada a catalizzare sull'anulare invece stesure molto sottili di bianco perché ne daremo due e tra una passata e l'altra ricordatevi sempre sempre di mettere a catalizzare perché comunque sono colori abbastanza densi, scusate liquidi essendo semi permanenti e potrebbero perdere comunque la stesura che avete appunto applicato e sul mignolino invece mettiamo questo bronzo, ho deciso di mixare in questo modo tutti i colori, ora prendo questo colore oro di Elleis che mi piace tantissimo e inizio a disegnare col pennello che avete visto prima e il rosso che abbiamo utilizzato di Passione Unghie il fiocchetto, ogni tanto mettete in lampada a catalizzare per fermare il colore, io delineo il bordo, dopodiché coloro l'interno e comincio appunto a creare questo fiocchetto, una volta che l'avete creato alla perfezione mettete in lampada a catalizzare utilizzo del bianco in questo modo perché andrò un po' a sfumare l'interno del fiocchetto che non sarà rosso rosso ma sarà un mix appunto come state vedendo dall'immagine prendo questo colore che è l'art gel di Passione di Crystal Nails bianco, se no potete utilizzare un semi permanente, un colore acrilico, insomma potete usare quello che volete e iniziamo a fare i confini, i bordi, l'interno e se non vi piace la simmetria del fiocchetto potete anche delineare bene il contorno perché avendo una base bianca sotto non si vedrà assolutamente quello che andate a fare, dopodiché facciamo praticamente i fili come state vedendo dall'immagine, abbelliamo con appunto il puntino come avete visto e invece abbiamo sigillato il medio, andiamo a utilizzare quel prodotto che avete visto che ormai conoscete a memoria di, oddio, di estrosa che è un 3D, praticamente non serve neanche sigillarlo dopo e facciamo queste cose che state appunto vedendo dall'immagine e il rilievo, ora prendiamo la colla gel che è fondamentale per questa nail art perché andrò a toccare un sacco di strass di varie misure dove state appunto vedendo e anche sul medio, utilizzerò questi strass di Crystal Nails che richiamano il bronzo che appunto abbiamo utilizzato prima e come vedete in fondo al fiocchettino ho utilizzato più colore essendo un one step e non serve la sigillatura dopo per appunto fare un fiocchetto in rilievo, mi dimenticavo ovviamente io prima di fare tutta questa cosa ho sigillato perché gli strass li metto in rilievo e tutto il resto l'ho fatto in rilievo questo è il risultato finale, spero che sia tutta chiara anche la mia spiegazione, sia chiaro tutto, sennò comunque fatemi le domande qua sotto, sennò secondo me l'avete visto e capito molto meglio e al prossimo video un grosso bacio a tutte e ancora tanti auguri di buon Natale ciao